Pronto? Signor White? Sì, chi parla? Eh, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo prossimo video, sono Anthony Rappiomila e oggi siamo qui su 007 Quantum of Solace Per Nintendo Wii Bene, siamo subiti carico, cari, subiti carico, subito carichi Anche se sono solo io, singolare Andando abbiamo assistito a un... Ho una sparatoria però bellissima, cerchina gestiremo Certo Allora, andandomi posiziono subito Cazzo, già le guardi E non vuole ripensarci, subito Uccidetelo Mi devo abituare di nuovo con i controlli Con questi qua Allora, tale fu un aggiornato Trova le rimesse le debatte Ok C'è un cancello alla fine del giardino Può usarlo per fare il giro e tornare alla casa Non riesco a vedere un po' che, 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 che Calma, che Mi devo abituare di nuovo con sto posto Uno ucciso Non si fa, ma vedi, vabbè, io non posso stare qua a camperare Ok, allora usciamo proprio dalla scopera Eccolo, eccolo Grande Non si fanno più veri, quindi andiamo avanti Il volume è troppo alto Ok Eccoli altri Sì, è vero, faccio attaccare Guarda mia di me Gander 007, vedi il cancello Ma non metta la serratura e vada alla rimessa per barbio Cancello, ecco, questo qua E mi importa Ok, allora ma devo seguire i tasti Credo una via Sopra Giù Destra Giù Ok, cambia l'arma, e lo siamo Ora, la nostra Monsignor Chillato Vedi Brutto Ha a posto benissimo Ora Vabbè aprire il favo No Vabbè Vabbè Eh sì, io c'ho già coccato così per prova Ma cazzo non si vede e se stavo volando il controllo mangiato vado a fare questo dai fai subito al distanzio di porto avevo sbagliato tasto allora ora traiziamo qua dentro allora mi devo riprendere i comandi addio e che pezzo 1 c'è proprio i balletti sexy adesso colpito credo eh bond per entrare nella villa dovrà sbarazzarsi di altri uomini di white e si stanno radunando più avanti va bene assaddo mezza dozzina almeno bond sto cazzo mezza dozzina guarda non muo carichiamo guarda nessuno come si vorrei matrimonio mo 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 Ok Non sta niente Ah ecco Esci Bene, good Ok, successo è inizio Mi dirigo verso la casa Mi faccia sapere quando è all'interno Ha un po' di tempo per trovare i nostri soldi Ma non troppo Il signor White deve arrivare a Siena il prima possibile Boom Qua visto che l'ho conchiuso Prendo prendiamo un altro arma La valigetta di White dovrebbe essere da qualche parte Nella sua cassaforte a muro Controlli cellulare credo di averli intravista sulla telecamera 3 C'è stata una sparatoria 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 C'è stata una bestkills Tutti qua 6 gramma Sto arriendo tutti qua Tutti qua, bene Allora Dove dove andrà? ma che cazzo non muo' oddio ma chi sei? cioè sono io James Bond qua e non volevo fare altrimenti saltavo in aria al telecomando ah l'ha capito che è entrata bene gli sto facendo fuori una una cioè ragazzi sono in grande eh cioè per chi dice di no vaffanculo se non ha trovato la cassaforte provi al piano di sopra al piano di sopra ecco che mi baggo vicino alle piante poca di quella misera tu? io la cosa che amo di James Bond di questi film qua è che puoi fare questo cioè io lo amo amo questo giù perchè nel vecchio capitolo tipo gold cioè non so se è di nuovo la cassa goldenata maledizione non ha questo tipo di ma ho trovato qualcosa di meglio meglio di 115 milioni di dollari? su che cosa ha messo le mani? il file dell'organizzazione 1,2,3,4,5,6,7,8 le sto copiando adesso di nuovo il vecchietto? oh cazzo difenditi eh si va bene però ok ok muo proprio dobbiamo scappare meglio che lo uccida io e non non si vede un cazzo non si vede niente scusa mi dimettete a fare i nemici se poi muoiono da qui ecco ecco i soldati deve saltare in aria bene da cazzo la faccia traumatizzata giù bene l'abbiamo steso cioè è il minimo si continua a correre eh ragazzi non so che dovremmo andare in acqua qual è simile al mio? al mio controllo eh si bene ragazzi spero vi sia piaciuto questo brevissimo non è scherzo 11 minuti è durato quindi ci vediamo al prossimo video spero vi sia piaciuto questo questo primo episodio di 007 Quantum of Solace per Nintendo Wii e ci vediamo al prossimo video mettete mi piace commentate condividete e ciao ragazzi cazzo ciao ciao Grazie a tutti.